Nonostante avere avuto l'invito ufficiale, nessun portavoce della Medolese si è presentato alle telecamere di Sermidiana Magazine. Marco Valicelli ricorda il risultato finale. Sermide e Medolese 3 a 3, la linea allo studio centrale per la messa in onda degli altri contributi filmati. Con un attacco Sermidese anemico, ce lo consentirà Matteo Barozzi, siamo appunto con l'autore della doppietta di quest'oggi che consente al Sermide di strappare un bel 3 a 3. Matteo, il tuo punto di vista sulla gara? Abbiamo lottato tanto, siamo stati molto bravi, siamo stati in vantaggio, dopo ci siamo fatti rimontare 2 a 1 ma ci siamo stati bravi a non mollare, abbiamo messo tutto, dopo è venuta la doppietta, sono molto contento e sono felice per questo punto che ci dà una mano anche per la salvezza, cosa a cui puntiamo. Domenica prossima arriva qui la polisportiva futura, la capolista. All'andata abbiamo perso, male, ci siamo fatti rimontare e niente, dobbiamo fare una partita come oggi, dare tutto e magari uscire la prossima a vincere. Con Giovanni Massarenti, presidente del Sermide, commentiamo questo pareggio, un pareggio della volontà, della determinazione, della generosità dei ragazzi. Sì, direi proprio di sì, la partita non la sono goduta, ho mai fatto tre gol tutti in una volta e insomma tre gol presi qualche volta ci è capitato, forse troppo spesso. I ragazzi credo che abbiano dato tutto quello che si poteva dare su un campo che era infame perché al limite era praticabilità, direi che certi tratti li hanno giocato bene, abbiamo sbagliato anche delle occasioni, potevamo magari portare la partita alla nostra parte ma tutto sommato il pareggio credo che sia un risultato giusto. Sono contento per i ragazzi perché si meritavano dopo tante sfortune alla fine delle partite, un rigore 92esimo, un pareggio 94esimo, si meritavano di portare a casa almeno un punto perché penso in questo momento ne abbiamo estremamente bisogno per la classifica ma soprattutto per il morale. Ci aiuterà a lavorare bene in settimana, abbiamo un'altra partita durissima la settimana prossima che viene giù il futuro e speriamo di fare altrettanto bene, noi con le grandi generalmente riusciamo a tirare fuori il meglio, gli attributi che tante volte ci sono mancati.